Lui ha ancora la speranza di uscire dalla porta principale, cosa significa uscire dalla porta principale? Significa mettere a disposizione, ci siamo detti prima che Forza Italia alle ultime stime dicono che è 10, 12, 13%, ecco di quel 10, 12, 13%, il 10 è suo, per cui ripartire da quel 10 e da aggiungerci quello che si potrà aggiungere, non dimentichiamo che in campagna elettorale Berlusconi ha sempre aggiunto circa il 50% del punto di partenza, per cui se la storia si ripete, quel 13 si avvicina più al 20 se si dovesse andare a votare, se si ripete quello che è successo in tutte le elezioni, ci fu una volta che a Prodi recuperò 10 punti in 40 giorni, l'ultima volta ne ha recuperati 11, 12, 13 giorni, e uno dice ma perché vuole farlo? Vuole farlo perché vuole ancora fare il primo ministro, il premier? Io credo di no, io credo che Berlusconi non abbia più la voglia, non gli interessi più, credo che gli interessi tenere in piedi, in vita e rafforzare quello schieramento politico, che oggi quell'elettorato, quella parte d'Italia che la pensa come lui e quindi credo in parte, in gran parte come noi, che abbia un riferimento politico e che questo riferimento politico possa incidere sui destini del Paese, per cui da quel punto di vista non credo che si sia reso, io non credo che voglia andare all'antigua a passare, cosa che io gli ho consigliato più di una volta, Presidente, ma molla tutto, pensa a te stesso, alla fine di questa lunghissima e entusiasmante avventura, ma non credo che sia questo il suo orizzonte.